Ed è partito questa mattina il nuovo screening organizzato dall'amministrazione comunale di Pesaro riservato al mondo della scuola. Screening che a partire da oggi e fino a domani interesserà anche le scuole medie. Questa mattina ci troviamo infatti alla scuola Pirandello da cui sono partiti i primi test dei tamponi. La risposta dell'istituto e della scuola media è stata assolutamente positiva. Abbiamo un'adesione dei ragazzi che è pari circa al 75%. I docenti e il personale ATA hanno partecipato praticamente tutti. Come parteciperanno anche alla campagna vaccinale perché quello che stiamo difendendo in questo momento è l'attività in presenza. Noi del primo grado abbiamo sempre lavorato in presenza. Certo qualche classe è andata in quarantena e ancora in quarantena. Però sono percentuali ancora basse rispetto all'insieme della popolazione scolastica. E riteniamo che uno strumento come questo, una possibilità come questa, ci consenta di continuare l'attività in presenza. Che difendiamo e difenderemo fino a giugno assolutamente. Per quanto riguarda quindi la Pirandello, quanti le classi attualmente in quarantena? In quarantena sono tre classi in questo momento. Parlo della scuola secondaria, dovrebbero rientrare la prossima lunedì. Quindi insomma abbiamo terminato. Al momento non ci sono positivi. Quindi insomma speriamo di poter riprendere a pieno ritmo la prossima settimana con tutti i ragazzi e con tutte le classi. Buona l'affluenza che ha toccato mediamente il 70% delle adesioni anche nelle scuole medie Dante Alighieri, Brancati e Galilei. Che insieme all'Istituto Pirandello hanno dato il via al nuovo appuntamento della campagna Scuole Sicure. L'attività di screening è proseguita poi nel pomeriggio rivolgendosi al personale educativo e ausiliario dei Nidi, delle scuole d'infanzia comunali, delle scuole primarie e delle scuole d'infanzia statali. Domani invece dalle 8.30 alle 13 i tamponi per studenti, insegnanti e personale ATA saranno eseguiti nelle scuole medie restanti Leopardi, Gaudiano e Manzoni. Mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 20 i test verranno effettuati al campus per lo screening di studenti, docenti e personale delle scuole superiori pesaresi. Riteniamo che lo screening sia l'unica arma per tenere sotto controllo i contagi. È un'operazione che vorrei insomma che anche tutto il resto della Regione Marche potesse avere perché poi ricordiamo che i ragazzi sotto i 16 anni non si potranno vaccinare e sicuramente non sarà entro la fine dell'anno scolastico per i ragazzi maggiorenni. Quindi è un'operazione con cui è possibile stare in classe, in sicurezza e continuare a tenere le scuole aperte. È la prima giornata ma l'adesione è altissima grazie al mondo della scuola che ha aderito con grande entusiasmo. C'è un'affluenza davvero molto alta dei ragazzi e degli insegnanti e la dimostrazione è che una scuola sicura si può fare se c'è uno screening periodico. Ormai lo diciamo da mesi, ci siamo sgolati. Avevamo immaginato che alla prima difficoltà si sarebbero richiuse le scuole ed è quello che sta avvenendo in tutta Italia. E credo che la chiusura delle scuole debba esserci soltanto in casi estremi. Che se è giustificata in zone rosse come oggi a Dancona, ovviamente del tutto giustificata, ci sono dati completamente fuori controllo, comunque molto gravi. Non è giustificata da altre parti dove invece magari i dati ancora sono sotto controllo e dove un controllo nelle scuole può evitare l'esplosione dei casi. Non è giustificata da altre parti.